di Roberto Saviano Buonasera Roberto Ciao Fabio Grazie e sempre mille complimenti per i tuoi editoriali Grazie È un onore Ti ascoltiamo Ieri era il primo maggio e stasera vorrei parlare di lavoro Nella notte tra domenico e lunedì nel Foggiano tre immigrati che stavano rientrando in macchina all'insediamento di braccianti di Torretta Antonacci sono stati inseguiti da un SUV da cui sono stati esplosi dei colpi di fucili a pallini quelli usati per la caccia ai cinghiali per intenderci Bene, questi colpi hanno rotto il lunotto posteriore dell'auto i tre migranti sono allora scesi dall'auto e hanno cominciato a correre in mezzo ai campi poi hanno chiamato i soccorsi uno di loro, ferito più gravemente è stato portato in ospedale e operato d'urgenza è un ragazzo di 30 anni, del Mali si chiama Sinaiogo Bubakar ma tutti lo chiamano Biggi per via della sua imponenza ha lasciato in Mali moglie e una figlia piccola per venire a lavorare qui in Italia ed è qui da circa sette anni lavora in un'azienda agricola della zona ed è iscritto al sindacato d'oltre un anno, come molti altri lavoratori agricoli è in attesa di una risposta sul suo permesso di soggiorno costretto in qualche modo all'illegalità da questa non risposta da oggi avrà una difficoltà in più da affrontare perché i pallini sparati dal fucile lo hanno colpito al volto e gli hanno causato la perdita di un occhio le indagini sull'agguato sono in corso non si esclude che sia stata un'azione ritorsiva un paio di notti prima infatti alcuni malviventi si erano introdotti nell'insediamento e avevano tentato di rubare una cisterna il gasolio da questa cisterna che serve a far funzionare l'impianto di illuminazione della zona dei container l'insediamento di Torretta Antonacci è chiamato il Granghetto in questo periodo ospita meno di 2000 persone ma con l'arrivo della stagione dei pomodori può arrivare fino a 3000 persone in un paese fino a un anno e mezzo fa a dare alloggi ai braccianti qui oltre ai casolari abbandonati c'era solo una distesa di baracche fatte di lamiera e cartone ma dopo una serie di incendi che hanno anche causato morti tra i lavoratori immigrati era stata costruita un'area di container allo scopo di sgomberare progressivamente la baraccopoli che però non si è mai svuotata perché i container hanno spazio al massimo per 400 persone ed è proprio in quest'area chiamata Foresteria che è avvenuto il tentato furto di Gasolio alcuni immigrati però hanno scoperto i ladri e hanno chiamato la polizia uno di loro, un pregiudicato foggiano è stato bloccato dagli abitanti del ghetto aveva con sé una pistola rubata e con quella pistola ha minacciato i migranti poi quando è stato bloccato ha tentato di corromperli offrendo denaro per farsi liberare ma i migranti non hanno ceduto e l'hanno consegnato alle forze dell'ordine gli altri ladri sono riusciti a scappare ma non prima di aver urlato vi uccidiamo tutti neri bastardi gli immigrati che vivono in questa zona sanno che frasi come queste spesso non rimangono solo orrende minacce razziste ma si trasformano in azioni criminali concrete a marzo del 2019 nei pressi di Borgo Mezzanone verso Manfredonia non lontano da dove è stato compiuto l'agguato Daniel Niarco che era un ganese di 51 anni regolarmente in Italia lavorava come bracciante agricolo e guardiano in un podere venne ucciso a colpi di pistola mentre era in sella alla sua bici davanti alla casa colonica in cui viveva e tragedia nella tragedia la Sasalma rimase all'obitorio per quattro mesi fino a quando alcune associazioni di immigrati alla Caritas locale non riuscirono a raccogliere la cifra necessaria per fargli i funerali e seppellirlo le prime indagini si orientarono verso il regolamento di conti una rissa tra immigrati sappiate che il primo movente quando a morire uno straniero è sempre il regolamento di conti interno ma l'ipotesi non convince fin da subito che conosceva Daniel che invece ricordò che qualche tempo prima aveva denunciato una banda di malavitosi italiani il proprietario del suo podere si rifiutava di pagare il pizzo la banda allora aveva cercato di rubargli dei mezzi agricoli e Daniel aveva chiamato la polizia facendoli arrestare insomma si era opposto a un'ingiustizia si era opposto al racket che distrugge le aziende sane che ancora sopravvivono al sud Daniel Biggi e gli oltre 10.000 raccoglitori del foggiano che vivono in ghetti come quello di Torretta Antonacci i 180.000 lavoratori sfruttati che abitano nel nostro paese sono invisibili sono rimasti invisibili anche durante la pandemia quando la frutta e la verdura sono sempre arrivate sulle nostre tavole grazie al loro lavoro che non si è fermato mai nonostante il distanziamento sociale le misure di prevenzione in quelle condizioni non possono esistere ci accorgiamo di loro solo quando un incendio uccide qualcuno o quando qualche politico invoca a gran voce uno sgombero senza capire che se sfolli le persone da un campo senza prevedere misure alternative dignitose finiranno per accamparsi da qualche altra parte nelle stesse misere condizioni la lotta ai ghetti non deve essere lotta contro i disperati che ci vivono ma lotta per un lavoro dignitoso in questo periodo vi sarà capitato di mangiare gli asparagi sono di stagione proprio di questa stagione ecco per raccogliere gli asparagi che sono nel vostro piatto dei braccianti hanno lavorato 12 ore al giorno a 3,50 euro l'ora e se già vi sembra poco pensate che metà di quello che guadagnano torna nelle tasche dei caporali per pagare vitto alloggio in luoghi dove ogni giorno rischiano la vita spesso anche quando hanno un lavoro regolare sulla carta i braccianti stranieri in realtà sono costretti ad accettare qualsiasi condizione perché senza contratto non hanno il permesso di soggiorno e senza permesso di soggiorno non possono rimanere in Italia sono ricattabili perché vulnerabili è un circolo vizioso che può essere spezzato solo da diritti e contratti di lavoro dignitosi da qui bisogna partire per portare fine al caporalato da qui bisogna partire per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata che si inserisce in ogni passaggio del sistema ovunque lo Stato lascia un vuoto l'ha detto ieri in occasione del primo maggio il Presidente Mattarella ha detto senza lavoro buono e dignitoso per tutti non ci sarà la ripresa che vogliamo ecco chi parla di rispingimenti chi criminalizza l'immigrazione è complice della criminalità perché più indebolisci un lavoratore straniero più lo rendi possibile vittima della malavita questi lavoratori invisibili non solo sono l'asse portante dell'economia agricola del nostro paese ma nelle campagne gestite dal sistema criminale sono quelli che denunciano per questo ripeto ancora una volta i migranti non vengono in Italia solo a fare lavori che gli italiani non vogliono più fare ma anche a difendere i diritti che gli italiani non vogliono più difendere sono più di 30 anni che gli immigrati lottano per i diritti nel nostro paese era il 1989 quando Jerry Maslow profugo sudafricano scappato dall'apartheid protestava per le condizioni disumane in cui i caporali costringevano a vivere i braccianti nelle campagne di Villa Literno nel Casertano Jerry fu ucciso lì da quattro rapinatori a cui si era rifiutato di consegnare i soldi guadagnati raccogliendo i comodori come uno schiavo durante tutta l'estate mille lire a cassetta dopo il suo omicidio 200.000 persone scesero in piazza a Roma per manifestare contro il razzismo e la mobilitazione fu tale che lo Stato italiano decise di riconoscere anche agli stranieri extraeuropei e non più solo dell'Europa dell'est lo status di rifugiato che infatti a Gerry non era stato concesso ma prima ancora in sua memoria a Villa Literno si tenne il primo sciopero degli immigrati contro il caporalato al servizio della camorra sul volantino che gli scioperanti distribuirono per le strade c'era scritto la nostra condizione di clandestini permette a datori di lavoro disonesti e alla criminalità organizzata di usarci per mettere in pericolo i diritti che voi lavoratori italiani avete saputo conquistare non siamo perciò disposti ad essere strumento per far arretrare i vostri diritti chiediamo di appoggiarci in questa lotta ora questa frase dovrebbe essere letta e studiata da chiunque pensi che il motto prima gli italiani li difenda quello che i migranti nell'89 cercavano di far capire agli italiani è che la loro lotta per i diritti era lotta per i diritti di tutti e che continuare a negare i diritti ai migranti a lungo avrebbe danneggiato anche i diritti dei cittadini italiani quindi difendere il lavoro dei braccianti pretendere per loro un trattamento dignitoso significava e significa ancora oggi difendere il lavoro il lavoro di tutti come ha detto Abubakar Sumahoro che con la lega abbraccianti ha annunciato uno sciopero dei campi per il 18 maggio Abubakar dice bisogna scegliere da che parte stare o dalla parte degli sfruttatori schiavisti o dalla parte della dignità e dei diritti grazie Roberto grazie a te molto i complimenti davvero molto i complimenti grazie saluto anch'io Abubakar Sumahora